La palla ovale non oltrepassa solo le linee di gioco, ma anche i confini. Così, Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord scendono in campo unite con gli stessi colori e la stessa voglia di vincere. Gli azzurri però non sono da meno e sono pronti per una sfida all'ultima meta. L'RBS 6 Nazioni si sposta a Dublino per Irlanda Italia. Grazie a tutti.